Cardelli è stata molto chiara, lei non andrà a firmare dal notaio domani per mandare a casa il sindaco Brucchi ma chiede, fa un appello ulteriore affinché venga sfiduciato in consiglio comunale e poi attacca frontalmente Pomante. Perché? Attacco Pomante nel senso che come sul rettizio strumento del consigliere regionale Gatti perché il consigliere Pomante non è che si sia distinto granché per la sua attività consigliare spesso e volentieri alle commissioni non è stato mai presente e si è distinto dal resto della minoranza solo in tre occasioni cruciali. La prima vorrei ricordare quella della mozione di sfiducia nei confronti della mozione di revoca nei confronti del presidente Milton di Sabatino dove entra la minoranza l'unico a votare contro, insieme a votare contro, fu proprio il consigliere Pomante adducendo delle argomentazioni veramente risibili. Quella mozione di sfiducia ha provocato la prima vera frattura, cioè ha portato alla luce la prima vera frattura all'interno della maggioranza, qualche tempo doveva esserci anche un rimpasto che poi non è stato fatto qualche tempo dopo fuoriuscirono dalla maggioranza la civica al centro per termo, fuoriuscirono Puglia e il consigliere Campana. Il passaggio successivo fu quando presentò in consiglio comunale una mozione contro la presunta teoria gender impartita nelle scuole e il consigliere Pomante presentò questa mozione che era la fotocopia della stessa mozione portata in consiglio regionale da parte del consigliere Gatti e in consiglio comunale fu bocciata sonoramente da tutti ma votata esclusivamente dai consiglieri di futuro IN e detto adesso tra parentesi un altro atto al di fuori dei canoni istituzionali e di deontologia di correttezza politica, consigliere Pomante in quell'occasione mi ha anche denunciato per diffamazione per degli epitoli utilizzati in un comunicato stampa nei confronti di questo documento irricevibile e quindi dovrò andare a processo per difendermi da questa denuncia che contestualmente viene anche richiesta un risarcimento danni morali di 14 mila euro. Quindi insomma secondo lei il consigliere Pomante è uno strumento di futuro IN cioè di Paolo Gatti? Sì, perché questa ultima uscita di andare dal notaio per dimettersi come dei carbonari che non possono rispondere in consiglio a viso aperto delle proprie azioni e posizioni mi sembra di per sé disdicevole come attività ma è anche palesemente un'attività che si volge solo a favore del consigliere regionale Gatti e delle sue ambizioni elettorali che non ha avuto neanche il coraggio di far presentare come proposta ai suoi consiglieri di futuro IN quindi esiste ancora ribadisco come abbiamo ribadito anche nei giorni scorsi insieme al resto della minoranza esiste una mozione di sfiducia potrebbero anche presentarne un'altra di mozione di sfiducia ai consiglieri di futuro IN ma comunque sì, la sfiducia va presentata in consiglio dove ognuno dovrà ammettere le proprie responsabilità che da parte dei consigli di futuro IN sono sicuramente macroscopiche e evidenti agli occhi di tutti Il suo invito quindi a questo punto è quello di continuare a lavorare con questa amministrazione finché questa amministrazione riuscirà ad andare avanti Continuo a lavorare, io continuo a fare quello che ho sempre fatto dal mio ingresso nel consiglio e ossia portare avanti quelle che ritengo questioni fondamentali da risolvere e quindi la questione di Via Longo, risolvere la questione di Via Longo, portarla a conclusione risolvere la questione della Tercop, dei soci lavoratori che pure anche questa questione da anni dovrebbe essere risolta e poi ancora un'ultima che tra l'altro sono tutti emendamenti che ho presentato all'interno del PEF e del bilancio, per il bilancio e poi andare a arrivare a prevedere una programmazione della tariffa puntuale per quanto riguarda la raccolta differenziata a partire dal 2018 quindi fin tanto che i consiglieri di futuro IN non si decideranno a venire in aula a sfiduciare il sindaco o in qualche modo a non approvare il bilancio insomma a palesare nel luogo preposto le proprie intenzioni continuerò a fare quello che ho sempre fatto per il bene della città e della cittadinanza qualcosa devo aggiungere?